Il mio bello orologio nuovo aveva camminato per 18 mesi senza sgarrare d'un minuto, senza guastarsi mai in nessuna parte del congegno e senza fermarsi mai. Ero arrivato a ritenere infallibili i suoi responsi orari, a giudicarne imperiture, costituzione e anatomia. Ma infine, una sera, scordai di caricarlo e si fermò. Ne provai un gran dolore, quasi il fatto fosse foriero e presagio conclamato di sventura. Ma in breve mi feci animo, rimisi occhio le lancette e voli liberarmi di ubbie e superstizioni. L'indomani mi affacciai dal più accreditato gioielliere della città per regolare all'ora esatta il mio cronometro, ma il padrone del negozio me lo prese di mano e procedette lui all'operazione. Poi disse, va quattro minuti indietro, bisogna spingere su il bilanciere. Tentai di fermarlo, di fargli capire che il mio orologio spaccava il secondo. Ma niente, quella testa di cavolo non sapeva dire altro che l'orologio andava quattro minuti indietro e che bisognava spingere un pochettino in su il bilanciere. E così, mentre io gli saltellavo intorno in preda all'angoscia, implorandolo di non stuzzicare l'orologio, costui mandò ad effetto con crudeltà serafica l'obrobrioso gesto. E l'orologio cominciò ad andare avanti. Correva, galoppava ogni giorno di più. Verso il finire della settimana gli salì un febbrone da cavallo. La temperatura raggiunse i 65 all'ombra. In capo a due mesi aveva dato la polvere a tutti gli orologi della città ed era in vantaggio sul calendario di 13 giorni erotti. Già si godeva la neve di novembre quando ancora le foglie ottobrine ingiallivano. Accelerava a ritmo rovinoso e per me insostenibile le scadenze dell'affitto, delle cambiali e di tutte quelle cose lì. Allora lo portai da un orologiaio per farlo registrare. Mi chiese se l'avessi mai fatto riparare. Risposi di no, che non ce n'era mai stato alcun bisogno. Assunse un'aria di perfida esultanza e dischiuse avidamente l'orologio. Dopodiché, innestatosi nell'occhio un bussolotto, si mise a scrutarne il meccanismo. Disse che andava pulito e lubrificato oltre che registrato. Tornassi fra una settimana. Una volta pulito, lubrificato e registrato, il mio orologio prese ad andare così lento che batteva come una campana a morto. I treni cominciarono a piantarmi. Mancavo a tutti gli appuntamenti. Finivo addirittura per saltare i pasti. Una dilazione di tre giorni diventava di quattro e così la cambiale mi andava in protesto. Piano piano scivolavo a ieri, a ieri l'altro, alla settimana scorsa e ben presto dovetti constatare di star vagando in perfetta solitudine in quella ancora precedente, tagliato ormai fuori dal mondo. Mi pareva di scoprire in me una sorta di segreta affinità con la mummia del museo e una certa voglia di scambiarci quattro chiacchiere. Tornai dall'orologiaio. Prendendosela comoda, smontò l'orologio fino all'ultimo pezzo e poi concluse che il bariletto si era gonfiato. Disse che ci sarebbero voluti tre giorni per ridurlo. In seguito a ciò, l'orologio tenne una buona media ma nulla più. Per mezza giornata correva come un diavolo con tanti di quei ringhie, sibili e ululati, starnuti e sbuffi, che dal fracasso non riuscivo nemmeno più a pensare. E finché gli reggeva il fiato non c'era orologio in tutta la regione che avesse una probabilità di superarlo. Ma poi si metteva a battere la fiacca e per il resto della giornata andava così piano che tutti gli orologi che aveva seminato gli si rifacevano sotto. E così, allo scoccare della ventiquattresima ora, passava trotterellando allegramente davanti alla tribuna dei giudici di gara, giusto in tempo. La media sostenuta era ineccepibile e nessuno poteva negare che avesse fatto il suo dovere, nulla di più e nulla di meno. Ma una media corretta non è che una modesta virtù per un orologio, perciò lo portai da un altro orologiaio. Questi affermò che era rotta la racchetta. Mi dissi felice che non si trattasse di una cosa più seria. Per la verità non avevo la minima idea di cosa fosse una racchetta, ma non mi andava di passare da ignorante di fronte a uno sconosciuto. La racchetta fu aggiustata, ma ciò che l'orologio guadagnò per un verso lo perse per l'altro. Correva un po' e poi si fermava un altro po'. Poi si rimetteva a correre e così via, decidendo i tempi a sua discrezione. E ogni volta che ripartiva rinculava come un moschetto. Per qualche giorno girai con un'imbottitura sul petto, ma poi mi decisi a ricorrere a un terzo orologiaio. Lo smontò anche lui in tanti pezzettini e cominciò a girarsi e a rigirarsi le rovine sotto la lente. Infine disse che parevano esserci dei problemini al grilletto. Lo aggiustò e ridette il via all'orologio. Adesso andava bene, a parte il fatto che ogni volta, alle dieci meno dieci, le lancette si chiudevano come un paio di forbici per poi proseguire il loro viaggio in compagnia. Neanche il più provato uomo di mondo sarebbe riuscito a raccapezzarci l'ora con un simile orologio, ragion per cui tornai per l'ennesima volta a farlo aggiustare. Questa volta mi si informò che il vetro era imbarcato e che la molla non era dritta. Mi si fece anche notare che parte del congegno aveva bisogno di una mezza risolatura. Accomodò il tutto e allora l'orologio si mise a funzionare in maniera irreprensibile, salvo che a volte, dopo aver marciato tranquillo per circa otto ore, tutti gli aggeggi che c'erano dentro si scatenavano di colpo a ronzare come api e le lancette cominciavano a girare e girare, così vertiginosamente da perdere del tutto ogni individualità e da sembrare null'altro che una fine ragnatela sul quadrante. Snocciolava le ventiquattro ore in sei o sette minuti, dopodiché si fermava con un botto. Sconsolatissimo mi recai dall'ennesimo orologiaio e rimasi a osservarlo mentre lo smontava. Mi accinsi quindi a sottoporlo a un fuoco di fila di domande, perché la faccenda si faceva seria. L'orologio era costato all'origine duecento dollari, ma mi sembrava ad averne spesi ormai due o tremila di riparazioni. Dopo un po' che aspettavo e osservavo, riconobbi in costui una mia vecchia conoscenza. Un ex macchinista di battelli a vapore e per giunta nemmeno tanto bravo. Esaminò con cura ogni singolo pezzo, proprio come avevano fatto tutti gli altri suoi colleghi e quindi con la stessa aria convinta emise il suo verdetto. Disse, fa troppo vapore e c'è da dare una serrata alla valvola di sicurezza. Gli bruciai le cervella là per là e lo feci seppellire a mie spese. Ma zio William, ormai ahimè buonanima, soleva dire che un buon cavallo era un buon cavallo finché non se la dava a gambe e che un buon orologio era un buon orologio finché qualcuno non ci metteva le mani. E soleva domandarsi che cosa mai ne fosse di tutti i calderai, gli armaioli, i ciabattini, i macchinisti e i fabbri falliti. Ma nessuno non seppe mai dargli risposta.